La cura è la cosa più piacevole Ma se ti prendi la sifilide da una puttana e devi prendere il mercurio è più piacevole prendersi la malattia che curarla C'è qualcosa che ti rode? Già, tutti gli uomini vogliono seguire un codice o un credo, no? Ma al momento buono molti seguono l'istinto anziché le leggi che hanno scelto Ma per quale motivo avere un credo se poi non si seguono i suoi dettati? Per sentirsi parte di qualcosa Almeno per me Tu che ne pensi? Beh, gli uomini sono peco e un vecchio lupo si merita tutto il loro sangue fino all'ultima goccia Segui questa mappa Porta solo gente fidata Alla prossima Alla prossima Ah, capitano Kenway Useremo la tua nave per il nostro piano o la mia? Voglio sapere i dettagli prima di decidere Beh, sarà un azzardo Questo informatore sostiene che il tesoro che cerco è su un galeone non lontano da qui Per il suo bene, Spensio Hai già pensato a un piano? Certo Grazie a lui otterremo una bandiera portoghese che servirà ad avvicinarci il più possibile È un'idea molto semplice Se seguirai i miei ordini alla lettera Con la Jack Doe allora Ottimo Siamo in inferiorità, Roberts Qual è il piano? L'ammiraglia della flotta trasporta un ricco tesoro in un grosso screen Piale di cristallo piena di sangue Andiamo a caccia di sangue Tutto qui Ti ho chiesto di seguire le istruzioni alla lettera, capitano Ma non ti ho dato il permesso di fare domande Voglio tutte quelle fiale e intatte E se non le avrò, diventeremo nemici Mi hai capito? Va bene, sì Chiudi e riduci le venti Cazza e segui il vento Allontana la pruata È quel che ci serve, capitano Vedi quella nave là? Ci serve la sua bandiera per ingannarli In grado di rubare la bandiera senza disturbare un grosso Puoi vedere? C'è così, pronto Comissi a farà Oh, salve a salve a salve a salve a salve Cadere il rei del genocchio? Cadere il suo pato e fratello, signor? Come ti ho incontro nesta noite tão formosa? Molto bene, molto bene, obrigado Só un po'quino passeio per il defronto Perché questi sono tutti ai De boa forma Ciao, ciao Com'impe C'è questo, onze Sì, signor, esattamente, dai i nostri peccati. Con tantissimi pirati in queste acqua, questa frotta necessita di abbastanza protezione. Non è una terepa leve guardare quasi tre due stessi di navio. Sì, signor, signor, io non sto a conoscere il suo navio. Nei sequer trasporta la bandera del Dai. Oh, no, no. Grazie. 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 Hai la bandiera? Sì, ma stiamo battendo. Funzionerà di sicuro. Resto a distanza. Buono e calmo. Ehi, la bandiera rubata non ci proteggerà ancora. Por favor, signor, imploro che consideri che questo presto a fare. Non è possibile. Perché piagnucola così? Non piagnucola, è entusiasta. Sciogli tutte le vene. Lasca, calzarola le gambe. Calza e segui il vento. Calza e segui il vento. Non sarà il nostro bottino. Forse dovresti andare a terra, Capitano Kent. Cerca lo spiglio. Se tu chiedi ciò che vogliamo. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.